Gino, mi illustra quello che è il ristorante che io posso mettere tutto quello che voglio in questo piattino qua, tutte cose ciliane, è l'ultima caponotina della Sicilia, con melanzane, olive, poi la classica parmigiana, ah questa è tipo l'antipasto, qua abbiamo tutte le verdure, c'è la griglia, cipolle, cipolle grigliate, da noi non si sono mai fatte, buonissime, la griglia, c'è la griglia, poi qua abbiamo delle verdure cotte, un po' di patate, spinaci, che non so tipi che si c'è, poi di tutto il mondo, insomma le verdure cotte così, i pomodori freschi, i pomodori secchi, sott'olio, calciofi sott'olio, melanzane e ci impanate fritte, mamma mia queste le prendo, alice marinati, queste le prendo, delle zucchine con cipolla, queste cose fritte, si sono le fritte, i pomodorini, queste invece? queste sono delle melanzane e cieli piene, l'impasto è cotto di mollica, pinoli, queste me ne mangio, queste sono le stesse, però sono delle zucchine, qua abbiamo i funghi ripieni, i pomodori ripieni, zucchine fritte e peperoni ripieni, e questo è il timballo di melanzane, ma scusa, tutta sta roba tu mi dai un piattino così, ma ma cambio, il piattino te lo lascio, a me mi dai questo, mi dai questo, te lo lascio, va bene, va bene, dal gabbiano Cefalu, saluti